La dipendenza del Papa Dice che a sentire il Papa in concistoro Quando sputa qualche altro cardinale Ce sarebbe da farci un carnovale Da venneri i parchetti appeso d'oro Principia in sciafruia Che per decoro di tutto quanto Il mondo universale Vorrebbe dare il cappello artale E qui a riconta le prodezze loro A ricontate queste prodezze rare Passa di Venerabili fratelli Glielo volemodà Che ve ne pare? Detto così Senza aspettare che quelli Gli dino la risposta dell'affare Te ripianta E spedisce gli cappelli Giuseppe Gioacchino Belli 27 aprile 1835